Naturalmente adesso mi chiede la scusa. Mimì, non lo so che cosa mi ha preso. Ti prego, scusami. Sono desolato. Sai, mi vergogno come un ladro, dico davvero. Mimì, ma perché non dici niente? Mimì, mi stai a sentire o no? Che dicevi? Eh? Dicevo che mi dispiace. Mi sento un verme. In fondo Franco era il mio migliore amico. Mimì! Ma smettila di continuare a dire banalità. Voglio la pagella piuttosto. Che voti mi dai? Cosa? Dai che hai capito benissimo. Voglio i voti, coraggio. Tu sei proprio matta. E niente favoritismi. Allora, cominciamo con l'esperienza. Vuoi la verità? Sì, la verità. Sei un po' scarsina. Facciamo 21. Tanto per incoraggiarti. Immaginazione? Un po' meglio. Però ho ancora un tantino inibita. 24. Ma per essere generosi? Disponibilità? Eccezionale. 110 con lode. E se permetti, con l'abbraccio. Anche se non proprio accademico. No, non te lo permetto. Mimì. No, chiariamo subito un punto, Sandro. Non creiamo equivoci. Non sei stato tu a sedurmi. Ah, non sono stato io. No. Io ho seduto te.